salve a tutti ragazze e ragazze allora oggi voglio far vedere questo video ho acquistato la taglia e cuce alla md un po di mesi fa però ve la presento solo oggi perché l'ho prima utilizzata per capire un po il funzionamento questi sono tutti gli accessori che ovviamente ci sono il pedale ci sono del già delle bobine inserite c'è il copri il coprimacchina quindi e tutte le istruzioni per la taglia e cuci che mi sembrano abbastanza interessanti il cassettino che trovate sul lato della taglia e cuci contiene vari accessori con ovviamente dei dischi questi sono quei dischi dove ci si può appoggiare poi le bobine più grandi nel portafili questi sono gli accessori che troviamo una lama del coltello degli aghi c'è la pinzetta per poter prendere il filo il pennellino per pulire il distanziatore questo poi vi spiegherò che cosa serve e vari cacciaviti che servono per smontare aghi o per la pulizia della macchina per iniziare bisogna inserire ovviamente il cavo di alimentazione che poi è attaccato anche al pedale sul lato dove c'è proprio la fessura dove inserirlo quindi questo è molto semplice per poterla poi abbiamo il differenziale abbiamo la rotella quella che serve per far partire la macchina e poi abbiamo la lunghezza dei punti e questo serve per alzare e abbassare il piedino cosa che aveva diverso altre macchine hanno un modo diverso queste sono le varie regolazioni ci sono i vari fili che già sono montati nella macchina quindi non avrete la difficoltà di poter montare i fili poi vi rimando anche a un video molto che ho fatto come si cambiano i fili nella taglia a cuci qui abbiamo lo sportellino che si apre dove ci fa vedere i vari passaggi dei fili qualora si dovessero sfilare ma se voi non sfilate i fili quelli che trovate già in dotazione non avete nessun problema quindi qui abbiamo l'interruttore per accendere e abbiamo la nostra macchina è in funzione direttamente io così ho inserito la spina ed è e abbiamo iniziato subito la macchina è molto stabile ha dei piedini delle ventose sotto che la rendono veramente molto molto stabile e questa è una cosa importante cosa che non aveva l'altra macchina tagli e cuci che avevo acquistato alla Lidl quindi questo diciamo che è veramente molto carino il piedino che si alza e si abbassa con la leva laterale che a me piace tantissimo quest'idea devo essere sincera perché il piedino da dietro tante volte non lo trovo così mi rimane più semplice quindi vedete se io alzo e abbasso quella leva si alza e si abbassa il piedino i piedini che avevo dell'altra macchina della Lidl quella della singer mi sembra che era della singer si funzionano anche su questa questi sono tutti le varie rondelle per regolare le tensioni che poi piano piano vi dirò ma comunque sono molto molto simili a quelle che io già vi ho fatto vedere dell'altra tagli e cuci quindi non c'è proprio una grande differenza però piano piano faremo dei video dove andremo a vedere la come utilizzare questa macchina piuttosto che l'altra allora una volta che alzate il piedino inserite la stoffa sotto fate una prova del taglio guardate cioè è veramente molto più silenziosa vibra quasi no quasi voi non la vedete proprio vibrare per quanto è veramente salda al tavolo e ora vi faccio vedere la cucitura che è veramente molto pulita molto più bella devo dire che l'anecchi n 178 mi ha dato tante soddisfazioni guardate ora vi faccio rivedere il taglio il taglio quella cucitura queste a tre fili quindi guardate quanto è bella veramente perfetta 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 mi piace da morire sono sincera mi ha dato tante soddisfazioni guardate su un lato sull'altro veramente quella cucita si vede proprio da sopra che para arrasa proprio la stoffa è eccezionale sono veramente orgogliosa di questo acquisto ho aspettato un po di tempo per vedere se poi in effetti era quello che ha ecco vi faccio vedere questa è quella a quattro fili mi ero sbagliata no a tre la cucitura viene benissimo quindi mentre nell'altra mi si apriva un pochino questa invece rimane perfetta guardate che bella cucitura e che rifinitura quindi con un passaggio soltanto il cassettino contiene ovviamente gli scarti che poi dovrete pulire quindi qui dentro ci saranno gli scarti del del taglio della cucitura e poi c'è questa diciamo copertura in plastica ma che se volete potete realizzarne una ovviamente come vi piace a voi anche perché così eviterete che la macchina si impolvera e quindi dovete sempre starla spolverare a pulire e non è mai una buona cosa insomma tenere le macchine scoperte allora ora vediamo come cambiare il piedino della taglia e cuci perché io vi ho detto che io i piedini della della singer dell'altra taglia e cuci quindi vi faccio vedere che anche questi piedini vanno bene per l'anecchi come si cambia il piedino dietro qui al piedino quello della della macchina tagli e cuci c'è un pulsantino lo spingete e sentite fare un click alzando il piedino scusate ecco io spingo e il piedino si sgancia ok una volta che si è sganciato lo vado a togliere c'è questa molla vedete c'è questa nonna lanciate un pochino lo fate scavalcare alzate il filino e si si toglie il piedino precedente per rimettere quello che invece nuovo che è questo qui della taglia e cuci quella che avevo prima io alzo di nuovo il piedino alzo questa molla vedete c'è una molla qui ci faccio passare il piedino sotto ora mi dispiace perché vi metto le mani davanti allora alzo la molla passo il piedino lo faccio arrivare sotto all'aggancio ok fino ad arrivare proprio sotto che io vorrei non far mettere le mani ma non ci riesco proprio ragazzi poi mando giù il il piedino quindi con il gancio quello laterale spingo di nuovo il pulsantino dietro il braccetto scende e quindi si aggancia il piedino cioè è più difficile da dirsi che da farsi perché l'unica cosa della vecchia differenza dell'altra macchina è che dobbiamo tenere di nuovo premuto il pulsante per poter far agganciare l'altro piedino ok però i piedini della della leader quindi vanno bene anche per questo ecco io volevo farvi vedere già questa cosa quindi potete stare tranquilli adesso vi faccio vedere come lo tolgo perché io comunque devo rimettere il classico quindi spingo sentite il click una volta che ho fatto questo alzo bene il piedino da dietro alzo la molla che è questa qui e sfilo ovviamente il piedino quindi una volta passata la molla si sgancia vi faccio rivedere riprendo l'altro piedino alzo la molla con il video ma faccio passare sotto sopra e quindi il piedino va sotto porto il piedino sotto all'aggancio cioè a voi di rimarrà più semplice senza videocamera lo poggio spingo di nuovo il pulsantino dietro sentite questo questo click in parole perché ha riagganciato il piedino in precedenza la molla ha riagganciato il piedino quindi è molto semplice per fare questi cambi dei piedini è veramente molto molto semplice se avete domande chiedete perché capisco che io ovviamente devo mettere le mani davanti perché non è semplice fare questo cambio senza potervi passare davanti con le mani però è veramente molto molto facile da fare e quindi potete recuperare per chi avesse dei piedini della taglia e cuce della singer potete recuperarli e metterli anche sulla necchi spero intanto di avervi dato questo altro piccolo consiglio e al prossimo video ciao a tutti ragazzi e ragazze